Mister Cornacchini, doveroso partire dal mercato e dall'arrivo di Pasquale Iadresta. Mister, le chiedo cosa aggiunge questo attaccante alla sua squadra? Centimetri sicuro. È un giocatore che ha delle caratteristiche diverse dagli altri attaccanti che abbiamo a disposizione. La società è intervenuta, secondo me, molto bene, scegliendo un giocatore che ha proprio quella caratteristica, che ci può servire, soprattutto nelle partite dove si fa fatica a sbloccare, perché magari gli altri stanno compatti dietro, quindi è un acquisto importante. Bianchi, Iadresta, altri giovani attenzionati, la letterina per Babbo Natale, è arrivata subito a destinazione, Mister? No, no, io, ripeto, sono felice, la società sa quello che deve fare, sa come muoversi, per cui mi rende molto molto felice questa cosa. Come procede il recupero di Cicciobrienza? Bene, bene, procede bene, adesso non so in quale tempi poi tornerà a giocare, però mi auguro da mercoledì o da domenica. Vissera a chiudere, si aspetta un clima da battaglia a Portici, una squadra anche molto vicina alla Turris, la vostra diretta concorrente? Una squadra molto giovane, che è esuberante, ha dei giocatori che hanno anche discreta qualità, quindi sarà lo stesso una partita complicata come tutte le altre, però se noi l'affrontiamo come abbiamo fatto anche con la nocerina in casa, mi auguro che non ci siano problemi. Un grazie a Mister Cornachini, Mister buon allenamento, studio. 90 secondi, dal martedì al venerdì ti portiamo in allenamento con SSC Bari. 90 secondi di commenti e novità in esclusiva dalla voce del Mister e dei Biancorossi. 90 secondi, solo su TV Sport, per Telebari e Radio Bari. Radio ufficiale SSC Bari.